Salve amici del Centrometro Italiano. Teso flusso occidentale per la prossima settimana, quando sull'Europa si fronteggerà una vasta e profonda circolazione depressionaria e un anticiclone delle azzorre rimonta verso ovest. Prima parte della settimana che vedrà nuvolosità in transito ma con pochi fenomeni associati sull'Italia. Modello GFS che per la seconda parte della settimana mostra un'ondulazione del getto con due incursioni di aria polare verso il Mediterraneo centrale. Distanza temporale ancora elevata ma al momento non si escludono due rapide fasi di maltempo con piogge ma anche neve a quote medio basse. Una tendenza questa confermata anche dal modello europeo che mostra una fase di maltempo entro San Valentino. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.